bentornati al nuovo episodio dei filtri di photoshop oggi il filtro che andiamo a vedere stiamo proseguendo in ordine alfabetico ed è l'effetto spugna come possiamo vedere genera questo effetto che vorrebbe andare a simulare la pressione di una spugna sopra quella che potrebbe essere una tela come sempre andiamo a portare tutto a zero così ci rendiamo conto delle modifiche che possiamo fare e se lo portiamo a zero vediamo che l'effetto è decisamente più lieve ora noi qui abbiamo una dimensione pennello che ovviamente va a aumentare quelle che sono quelle che sono le dimensioni dei tratti abbiamo una definizione che quindi porta fuori maggiormente i tratti di questa di questa spugna che è stata applicata e abbiamo una sfumatura che agisce sulla definizione dell'effetto spugna ora vi confesso che riguardo a questo effetto io non ho trovato una vera e propria applicazione in ambito fotografico in quanto non fa altro che andare a appannare l'immagine per cui non sto nemmeno a applicarla o a provare a trovargli una ragione di esistere perché secondo me in ambito fotografico non ne ha davvero può servire qualora si voglia provare a realizzare un effetto vetro sfumato qualora si voglia provare a simulare la visione attraverso un vetro smerigliato cose di questo tipo l'applicazione pure semplice su una foto secondo me non ha molto senso è pensato per altri utilizzi e qualora ne trovaste uno un'applicazione pratica su uno dei vostri lavori vi invito a farmelo sapere nei commenti in maniera tale da poterlo vedere perché per ora a me non è mai capitato di doverlo usare